In crisi di consumo e di occupazione anche i gruppi industriali che operano in campagna nella grande distribuzione. Per tracciare il quadro nero della situazione regionale basta citare il caso Ikea che ad oggi occupa in campagna circa 550 lavoratori rispetto agli 800 dell'anno dell'apertura. Il colosso del mobile Fai da te non ha confermato durante l'anno nemmeno uno dei contratti a tempo determinato in scadenza e ha ridotto all'osso gli stagionali. A presentare i dati allarmanti sui licenziamenti nella grande distribuzione è stata la Wiltux Campania. Nel corso dell'incontro il segretario generale Rino Strazzullo ha chiesto il varo di una legge regionale sul commercio per mettere in conduzione le grandi sigle di non lasciare il territorio campano. Siamo in una situazione devastante, la crisi è arrivata nel nostro settore, già da tempo avevamo lanciato l'allarme alla regione affinché attivasse i tavoli necessari per elaborare un testo, per fare la nuova legge del commercio che manca da 12 anni nella nostra regione e credo che sia fondamentale per la razionalizzazione dei permessi su grandi superfici e anche per evitare la disoccupazione.